Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Premi Anticinquita e vi parlo del cane training card game Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video Oggi ragazzi come da titolo vi porto lo speciale 3000 iscritti E si ragazzi siamo arrivati a 3000 iscritti e vi ringrazio veramente di cuore Ho già fatto il vlog, mi raccomando datelo a vedere dove vi ringrazio proprio di persona E niente ragazzi, allora che dire Oggi come da titolo vi porto un bel pacco dal Giappone Ecco qua il pacco che mi è arrivato già due settimane fa Aspettavo per appunto questi 3000 iscritti per aprirlo E niente, questo pacco conteneva questi due box di X-Battle Boxed Ovvero l'ultimo set giapponese uscito che conclude la saga di Black & White ragazzi Ovvero Bianco e Nero E niente ragazzi, ho dovuto prendere questo box in doppio Perché con questo box adesso vi do un po' di informazioni Comprende molte X, Rakure, Shiram, Zagrom, Kyurem Bianco Lugia, ne contiene veramente molte Di solito per box ce ne trovano sei E quindi ragazzi non ce l'avrei mai fatta a completarle tutte queste X E quindi ho preferito prenderlo in doppio e poi spendere meno soldi su eBay per completarmi la collezione Perché sicuramente non riuscirò a trovare tutte le carte e le dovrò ricomprare Comunque venditore veramente ottimo ragazzi Che mi ha spedito questo pacco dal Giappone Ed è arrivato in solo una sola settimana ragazzi Solo una settimana e mi è arrivato incredibile Manco io ci credevo E niente, in tutto ho speso sugli 80 dollari Ripeto, il pacco l'ho preso su eBay I box li ho presi su eBay E niente, me l'ha spedito in questa scatola rosa Con dentro dei pallini di polistirolo Comunque non ve ne fregherà niente della scatola A voi vi interessano i box E dico subito che questi due box li aprirò nei prossimi giorni Adesso vi faccio vedere un po' di dettagli su questi due box Ovvero un po' gli artwork dei pacchetti E un po' di informazioni Io ho già dato un paio di informazioni Vi ho detto che questo set è completa la saga di Nero e Bianco E in questo set ragazzi ci sono tutte e tutte le ristampe dei set Ovvero da Nero e Bianco Destini Futuri, Esploratori dei Tenemi Fino arrivando a Confini Marcati e più in là Quindi ci sono un po' tutte le ristampe ragazzi E niente, troviamo due carte veramente eccezionali in questo set Che sono Zagrom, Full Art, Gold E Reshima, Full Art, Gold Sì avete capito bene Due carte ragazzi interamente Full Art E completamente oro E niente, sono veramente difficili da trovare E niente, si trovano ogni 10 box credo Sono considerate come shiny Ecco, sono veramente rare da trovare E se ne trovo una io ragazzi sclero Perché la voglio trovare assolutamente Perché mi piace veramente tantissimo Zagrom Ma vi ho dato un po' di informazioni E il resto lo potete trovare naturalmente qua sotto nella descrizione Mi raccomando passateci Dove potete trovare anche il link della mia fanpage Che ha raggiunto i 420 vi piaci Io vi dico grazie a tutti Potete trovare il link della raffle ragazzi La raffle Per i 5.000 iscritti Mi raccomando partecipate Potreste vincere 10 X Full Art Sì avete capito bene 10 X Full Art Facendo dei semplici passaggi Ma comunque Andate a vedere il video Tutti i link qua sotto Allora ragazzi Io direi di farvi vedere i box Questo l'ho preferito tenere chiuso Questo è aperto Allora Iniziamo a farvi vedere un po' Questo artwork Allora Questo ragazzi È l'artwork Del Vabbè facciamo prima così va Che quello c'ha la garden Si vede bene Ecco qua Questo ragazzi È l'artwork del box Molto semplice Carino Dai si può Carino Poi Qua mettiamo di nuovo a fuoco Vi faccio un po' vedere I lati Che ci stacca Eldeo Lugia Questi sono i due X Si trovano in questo battle box E X battle box Eccolo qua La scritta In giapponese Qui troviamo Mewtwo White Kyurem White Kyurem E Qua troviamo sempre la scritta X battle box Naturalmente in prima edizione Qua scritta Black e white qua E qua ragazzi C'è scritto 5 Molti mi chiedono Cosa vuol dire quel 5 Il 5 vuol dire che In ogni pacchetto Si trovano 5 carte Niente Questo è il retro Che è Incomprensibile Perché non si capisce niente E Vabbè Vi direi di aprire Il box Il box Il box Mi confondo Tra il nome del box Ah vedi mi confondo Ragazzi non lo so Comunque Mettete like Per questa super apertura Perché ci sarà Nei prossimi giorni E Niente Questi sono i 20 pacchetti Ragazzi Devono essere 20 E se non sono 20 Gli ritiro il box A quello Me l'ha venduto Comunque sono 20 Sicuro E E comunque Questo è un po' L'artwork Del pacchetto Ecco qua Con Ressi Ram e Zegrom E' uguale all'artwork Del box Non cambia veramente niente E questo è il retro Che non ci capirete niente Perché è tutto in giapponese Però io lo faccio sempre vedere Per curiosità Quindi ragazzi Questo è un po' Il box Che andremo a aprire Nei prossimi giorni Spero Vi possa piacere Questa apertura La dividerò in 8 parti Sì ragazzi Questa è l'apertura Del box Del box Questo è un po' Dove vi ho fatto vedere Il box Quindi L'apertura ci sarà Nei prossimi giorni Mi raccomando Mettete like E un commento A questo video Iscrivetevi al canale Partecipate alla raffola E niente Da faremo 25 di è tutto Vi ho dato tutte le informazioni Bella raga